La macchina che ho qui alle mie spalle si chiama FibroScan, è un FibroScan di ultima generazione che non solo misura la durezza del fegato, che è una somma di quanto infiammato e quanti cicatrici ha, ma anche la durezza della milza e questo è un parametro davvero molto importante per stabilire che cosa succederà in una persona con una malattia di fegato. In pratica è una stima indiretta di quella che si chiama ipertensione portale. In quanto il fegato rende congestionato il sistema dei basi nell'intestino.